Ciao papà, il 25 settembre ormai è vicinissimo e in questi ultimi due o tre mesi di campagna elettorale come sempre in famiglia abbiamo cercato di stare al passo, di stare informati però questo significa, come sai bene, che ovviamente il tempo a disposizione per me era molto ridotto e ti abbiamo visto molto poco nel corso appunto di questi ultimi mesi però io e Rana sappiamo che lo stai facendo innanzitutto perché hai una grande passione di di nuovo non ti fai il lavoro, il lavoro che hai mai da anni e soprattutto sappiamo che lo stai facendo per cercare di garantirci il migliore futuro possibile e questo non potrebbe renderci più orgogliosi e quest'anno è una domenica un po' speciale perché come ti ricorderai è la prima domenica in cui anch'io posso andare a votare e quindi a maggior ragione ho cercato di tenermi un po' informato e stare un po' più al passo del solito e adesso mi piacerebbe stare qua a parlare del Milan e delle solite cose però purtroppo non è questo il caso e ti auguro buona fortuna innanzitutto perché sono elezioni un po' più importanti del solito se vogliamo e un grande abbraccio e magari domenica riceverai anche il mio voto poi caramba grazie a tutti